si ritorna con jackson ancora una volta la tripla del campion c'è troppo la tripla di scony pen il canestro del più 13 da parte della formazione di elasi altra tripla di jackson con veroli che continua a trovare il canestro con estrema costanza forse però probabilmente il momento più bello ancora una volta jackson va quasi a schiacciare un giocatore devastante per questa categoria quindi farlo partire dalla panchina e poi farla entrare in una squadra del genere credo che sia veramente un giocatore importante ma credo che tutta la squadra a questo punto ha preso pure una volta un monumentale giarris jackson coscienza veramente che non avevamo sbagliato tanto all'inizio del campionato a fare a comporre questa squadra adesso ce la giochiamo con gli altri sarà difficilissimo però ci piace di essere contenti e di essere qua insomma presidente tre coppe con tre allenatori diversi ciao 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 ciao